Cosenza Cosenza sarà una delle location in cui verrà girato il prossimo film di Gabriele Mainetti, regista della fortunata pellicola Lo chiamavano Gigrobò. Nel centro storico saranno girate alcune scene del lungometraggio ambientato a Roma nel 1943 durante le fasi cruciali della Seconda Guerra Mondiale. Il Chiostro di San Domenico ospite i provini per prendere parte alle riprese e già nella prima giornata non mancano i candidati. I provini dureranno fino a sabato, dalle 9.30 fino alle 13 e dalle 14 alle 19. Sono per figurazione, figurazione speciale e se c'è anche la possibilità assegnare qualche piccolo ruolo. L'amministrazione di Palazzo dei Bruzi ha concesso il patrocinio nella convinzione che la produzione cinematografica avrà ripercussioni positive sulle attività commerciali e turistiche. Un modo non solo di far conoscere la nostra terra, di far conoscere i nostri luoghi. Sarà un modo di avere qui non solo tante presenze durante la registrazione, ma ci auguriamo che in qualche modo anche avere delle immagini della città durante questo film possa contribuire poi a farla conoscere. Salvatore Bruno per la Cinus24